Il mio più cordiale bentrovato al pubblico di Blog Sicilia per questo nuovo appuntamento con Talk Sicilia, la trasmissione che ormai tutti conoscete di approfondimento nella quale parliamo dei fatti che riguardano la nostra isola, che siano stati trattati o meno dal nostro giornale Blog Sicilia, cercando di approfondire e di comprenderne anche in retroscena, guardando anche in avanti a quello che si può fare per questa terra che in alcune parti del nostro giornale definiamo bella e dannata. Il nostro gradito ospite oggi in studio è l'onorevole Michele Catanzaro, capogruppo del PD a Lars, che in buona sostanza è un rappresentante di quella opposizione in Assemblea regionale siciliana che spereremmo di veder lavorare un po' di più. Grazie per essere qui con noi, onorevole Catanzaro. Grazie a voi per l'invito e un saluto rivolto a tutti i telespettatori. Ho detto in presentazione quella posizione che gradiremmo vederla lavorare un po' di più, ma in realtà tutta l'Assemblea regionale gradiremmo vederla lavorare un po' di più. Mi permetto di essere provocatore, come avevo già annunciato al nostro ospite Sarei Stato, subito prima di andare in onda, di andare a avviare questa trasmissione, perché dico questo? Sono sei mesi che il Parlamento regionale si è insediato, sono già trascorsi sei mesi anche se sembra passato qualche giorno, ma in realtà sono successe alcune cose, molte altre che sarebbero potute succedere non succedono, ma in particolare l'ultima saluta dell'Assemblea regionale siciliana ha segnato forse un record negativo, soltanto 15 persone presenti, i deputati lo ricordiamo sono 70, praticamente non c'era nessuno, non si è potuto lavorare, è una cosa che continua frequentemente. Guardi, è imbarazzante perché proprio di qualche ora fa abbiamo terminato una conferenza dei capigruppo dove ho chiesto al Presidente dell'Assemblea di poter interloquire sia con il governo, ma anche con la deputazione di maggioranza, perché ormai sono diverse settimane e mi sento anche di dire diversi mesi che si vede la non presenza dei deputati, soprattutto di maggioranza, dove noi addirittura arriviamo in aula con le rubriche sulle interrogazioni e vedere anche lì il governo impreparato su quelle che sono le interrogazioni con i temi, una su tutte, la sanità, cioè noi ci ritroviamo a non avere delle risposte ad interrogazioni di quattro mesi fa che ovviamente vengono fatte dalle opposizioni e quindi oggi anche il Presidente dell'Assemblea è arrivato in aula dove presenti erano pochissimi dei deputati di maggioranza e quindi non si è potuto procedere a quello che era un IDL che veniva proposto da parte della Commissione Sesta e lì le opposizioni, alcuni magari tra le file dell'opposizione erano assente però la maggior parte dei deputati presenti come ogni seduta è l'imbarazzo di non poter andare avanti con i lavori d'aula. Ecco, questo è successo più di una volta come le stesso sottolineava raccontandoci l'ultimo episodio ma è successo non soltanto in maggioranza anche in opposizione, quello che però ci aspetteremmo è di vedere una opposizione che sottolinea un po' di più le assenze della maggioranza e magari sia un po' più incalzante perché attualmente l'opposizione che abbiamo visto non lo è stata più di tanto o sbaglio nelle mie valutazioni? Guardi, io ritengo che intanto bisogna fare una riflessione che dal mio punto di vista fino ad ora magari non è venuta fuori. Noi abbiamo fatto una battaglia elettorale sei mesi fa che ha visto vincitori e vinti perché il vincitore è il Presidente della Regione, però si sono presentati diversi candidati alla Presidenza della Regione e quindi mi sento di dire che ci sono tre minoranze che rappresentano tre opposizioni e che oggi forse stiamo iniziando anche ad essere una opposizione tentando di mettere su anche i temi con un'agenda di opposizione. Ritengo anche che noi lo abbiamo più volte evidenziato e lo abbiamo anche fatto in aula quello che è la mancanza di proposta da parte del Governo ma anche delle commissioni perché di sicuro non ci possiamo noi prendere delle responsabilità che non appartengono alle opposizioni ma sono tutte della maggioranza. Inoltre è stata scelta anche del Governo regionale avere forse dieci dei dodici assessori tutti deputati regionali e quindi è una scelta loro questa fatta sei mesi fa del Presidente della Regione e devono dirci loro come potere procedere perché hanno vinto le elezioni e devono portare in aula quello che il Governo vuole fare. Forse magari qualcuno ha lanciato della idea di trionfalismo su quello che è stata la finanziaria che poi tutti sappiamo come è stata approcciata e come è stata licenziata a Roma la finanziaria però poi di atti concreti non ce ne sono e noi ci aspettiamo che sia le commissioni che anche il Governo ci portino quello che sono le loro proposte che noi dobbiamo portare avanti. Noi come opposizione abbiamo anche segnalato nelle settimane scorse alcuni disegni di legge che possono andare avanti nelle commissioni però ad oggi abbiamo pochissime notizie rispetto a quello che sono temi importanti che noi abbiamo chiesto di essere attivati in commissione ma anche in aula. Ha posto sul tavolo due argomenti importanti che sono due gli argomenti dei quali volevamo parlare e che volevamo affrontare. Uno di questi andiamo per ordine poi parleremo della finanziaria ma uno di questi è quello delle opposizioni che sono tre e non una sola. Per chi ci segue e non avesse seguito le vicende della politica lo ricordiamo attualmente l'opposizione è composta da un gruppo del Partito Democratico che qui è rappresentato dal capogruppo Michele Casanzaro ma da altri due gruppi, in realtà altri tre gruppi perché il gruppo di Sicilia Vera si è spezzato in due ma sono comunque un'unica realtà e poi c'è il gruppo del Movimento 5 Stelle, Michele Casanzaro se sbaglio. In questa situazione opposizioni che potevano sembrare andare nella stessa direzione si sono spesso dimostrate ad andare invece in direzioni opposte o sbaglio in questa valutazione? No, in direzioni opposte devo dire che forse tranne qualche volta magari su sensibilità diverse è capitato anche su alcuni temi, però poi ritengo che… Si è visto per esempio all'elezione del Presidente dell'Assemblea che c'è stato una… Vabbè, quello è un fatto iniziale che veniva fuori da quello che poc'anzi ho detto, cioè nel senso la sensibilità diversa di una competizione elettorale, se lei ricorda bene, noi abbiamo anche indetto delle primarie sulla scelta del candidato a Presidente della Regione e poi tutti sanno com'è andata, noi siamo andati su un Presidente della Regione, 5 Stelle sono andati su un altro Presidente della Regione pur avendo condotto insieme una idea sulla scelta attraverso le primarie del candidato a Presidente, De Luca è andato su una sua candidatura, quindi è chiaro che i primi mesi iniziali e soprattutto quello che erano le prime battute rispetto alla formazione degli uffici di Presidenza, ma anche sulla scelta del candidato a Presidente dell'Assemblea, che poi è diventato Presidente dell'Assemblea, ci sono state delle sensibilità diverse, ecco perché ho detto non è stato semplice, secondo me l'avviamento di questa… Ma superata questa fase adesso riuscite a prendere una strada e avere un'agenda dell'opposizione? Adesso le devo proprio dire che ci stiamo lavorando su come agenda di opposizione, stiamo cercando proprio di mettere a punto una opposizione che costruisca però non in forma demagogica, perché a me la demagogia non è mai piaciuta, ma su quello che sono i contenuti e quindi andare spediti come opposizione. Una su tutte mi consenta di dirlo che il Partito Democratico nelle settimane passate ha chiesto con forza il dibattito in aula sulla autonomia differenziata, che dovrebbe essere un tema che non soltanto essere un tema del Partito Democratico su richiesta del dibattito in aula che deve vedere protagonisti le opposizioni, ma ritengo che anche il Presidente della Regione, come qualche giorno fa mi pare di avere letto su qualche sua dichiarazione, forse sta iniziando a fare qualche passo indietro rispetto a quell'accordo scelerato che vedeva il 16 di dicembre il Presidente della Regione andare a Roma e col calpellino in mano ritornare ad avere quell'accordo. È chiaro che quell'accordo porta sempre di più la nostra Regione ad essere la Regione più a sud del sud dell'Italia. Intanto le immagini che stiamo vedendo sono quelle dell'insediamento dell'Assemblea regionale siciliana, le prime battute, le immagini che scorrono. Sì, il Presidente della Regione ha dichiarato apertamente, proprio in questi giorni, che bisognerà vigilare sullo strumento che può essere quello che contrasta, fra virgolette, l'autonomia differenziata, che è lo strumento dell'insularità. Secondo voi è questo lo strumento da mettere in campo ed è quello che può compensare tutto, a partire dalle vicende del caro voli, tanto per parlare di qualcosa che ci tocca tutti quotidianamente, ma c'è tanto altro. O ci sono altre cose da fare su cui intervenire? Guardi, questo potrebbe essere un tema, quello dell'insularità, però io ritengo che noi dobbiamo con forza aprire un tavolo per mettere su tutte quelle richieste che sono fondamentali e importanti per la nostra Regione e per la nostra terra. Un tema su tutti è quello della sanità. Mi consente di dire che oggi c'è un tema che a me sta molto a cuore, ma che dovrebbe stare a cuore a tutti i siciliani perché si parla del diritto della salute che dal mio punto di vista, guardi, fino a ieri sera sono stato a Ragusa, ma come in giro per le altre province ed è un tema che è ricorrente in tutte le province perché abbiamo una sanità colabrodo, abbiamo una sanità che ovviamente non dà pari dignità a tutti i cittadini e sono molto, ma molto preoccupato anche perché nella relazione iniziale io mi sono permesso di replicare alla dichiarazione del Presidente della Regione che lasciava intendere che oggi forse siamo quasi sconfitti su un modello che a noi non ci deve appartenere che è quello lombardo, cioè quello della sanità privata e pubblica quasi sulla pari percentuale, noi siamo senza se e senza ma sulla sanità pubblica. Parlavamo poc'anzi, accennavamo alle vicende che riguardano la finanziaria regionale, una finanziaria che definirei duale perché una cosa è quella che era uscita dalla Giunta di Governo che è arrivata in Assemblea regionale con due indicazioni, tutt'altra cosa è quella che è poi uscita dall'Aula, una finanziaria che ha subito ampie impugnative, da parte del Governo nazionale, impugnative che probabilmente porteranno allo stop ad alcuni provvedimenti, ma una finanziaria che proprio in queste ore il Presidente Lars Galvagno ha comunque definito, ha usato comunque per indicarla come un motivo per cui si legifera poco perché ha dato molte risposte ai territori, l'una cosa e l'altra possono andare d'accordo? Ma guardi che sulla finanziaria ci siano date molte risposte ai territori, quello ovviamente è una dichiarazione del Presidente dell'Assemblea anche perché se poi l'impugnativa da parte dello Stato prevede forse quasi 50 articoli con un importo superiore agli 800 milioni di euro, questo è soltanto come dire sono state delle norme vendute in modo slogan nei territori, però è chiaro che nel momento in cui noi arriviamo poi ad approvare delle norme e lo Stato ce l'impugna significa che c'è qualcosa che non funziona, ma in quelle ore e in quelle giornate, in quelle puntate lo abbiamo anche detto, si doveva procedere con più prudenza e più attenzione, lo abbiamo detto anche e l'ho detto anche io all'assessore all'economia Falcone che per carità tutti insieme, sia le maggioranze che opposizione, abbiamo cercato di arricchire portando migliorie a quello che era il testo iniziale, però che bisognava mettere un freno, io quel freno l'avevo detto nelle ore quando si svolgevano il voto in aula, che però quel voto in aula poi è andato in forma libertina e che ha prodotto l'impugnativa quasi di 800 milioni, è cosa di qualche giorno fa che forse si stava andando su una correzione di alcuni articoli, eravamo arrivati a 100-150 emendamenti che fortunatamente sono stati demandati tutti a giugno perché si stava procedendo anche sulla falsa riga della finanziaria passata e quindi il rischio era doppio perché oltre al danno la beffa, cioè se noi abbiamo avuto l'impugnativa da parte dello Stato dovremmo avere più attenzione a capire sulle cose concrete da fare perché oggi i temi che possono essere per carità importanti nei territori sono come dire temi che possono essere di gradimento per tutti i deputati, però è chiaro che dobbiamo intervenire su temi importanti, uno su tutti e oggi noi abbiamo grandi difficoltà nel mondo agricolo che guarda con grande attenzione, soprattutto è tema ricorrente di adesso dei consorsi di bonifica dove ci sono i lavoratori che forse non oltre agli invasi che abbiamo del 50% in meno di acqua, abbiamo anche un problema dei lavoratori dei consorsi di bonifica che non percepiscono stipendi da dicembre che sono in uno stato di agitazione, ma come quello dei forestali, come tanti problemi e temi atavici che fino a quando i governi o il governo con responsabilità non entra nel merito delle riforme, noi possiamo soltanto fare proclami e demandiamo anno dopo anno questi problemi e non interveniamo mai con le riforme. Oggi però è troppo tardivo, dobbiamo capire, il governo è già da sei mesi insediato e non può, come dire, quel governo ancora millantare e dire che siccome abbiamo fatto la finanziaria dopo due mesi e mezzo tutto va bene. Oggi bisogna che il governo ci dia delle risposte concrete proprio su temi che hanno grande aspettative da parte della comunità, partendo dalla sanità ma partendo all'agricoltura, partendo alla pesca, partendo al lavoro. È un tema, quello del lavoro mi consenta di dire che proprio sugli ispettorati del lavoro è una interrogazione nostra che ha avuto proprio questa mattina risposta da parte del Presidente della Regione che prenderà spero, auspico, subito perché non possiamo noi da quando è iniziato l'anno avere 11 morti sul lavoro ed è un tema molto ma molto importante. Ecco questa era la domanda che le volevo fare. Guardi mi perdoni se ho anticipato la sera. Ma ci mancherebbe, se dobbiamo affrontare gli argomenti affrontiamoli. Dovendo dettare un'agenda di opposizione, quali sono i temi che in questo momento secondo voi, secondo quella che è la vostra visione, andrebbero trattati subito e dovrebbero essere portati dall'attenzione dell'Assemblea regionale nelle prossime settimane, anche perché una riforma ha bisogno di tempi, ma ci sono delle emergenze che forse non possono aspettare una riforma. Ma guardi, una su tutte, lo continuo a dire, c'è un tema che non può più essere demandato, è il tema della sanità. Ma nel partito del dettaglio, la sanità su cosa? Qual è l'intervento che secondo voi va fatto? Noi vogliamo capire qual è l'idea di questo governo regionale in merito alla sanità siciliana, in merito a quello che il governo regionale vuole fare al di là, che poi si attende o no la risposta da parte del governo nazionale. Però oggi noi abbiamo gli ospedali con la brodo, noi abbiamo lunghe liste d'attesa, ecco sono quelle le risposte che noi cerchiamo nel governo regionale perché quello è il diritto alla salute. E questo uno su tutte è un tema fondamentale. Poi mi consenta di dire sul tema dell'agricoltura, sul tema dell'agricoltura non possiamo noi continuare ad abbozzare. Il tema dell'agricoltura bisogna di capire qual è l'idea di questo governo regionale sui forestali, sui consorsi di bonifica perché altrimenti finisce le battaglie elettorali, si arriva in aula, si parla di riforme ma di riforme non ne abbiamo perché se sono le solite riforme in continuità rispetto al governo di centrodestra che c'è stato 5 per 5 anni del governo musumeci e oggi abbiamo la stessa continuità, noi ci ritroveremo ovviamente ad avere un governo che va sullo stesso colore politico ma con l'assenza di risposte che noi dell'opposizione chiediamo con forza. Per fare qualunque cosa però servono fondamentalmente i soldi e in questo momento per esempio sono ancora in corso una parte del riaccertamento di bilancio, i fondi sono stati bloccati per lungo tempo, quelli sbloccati sembrano essere soltanto una parte di quelli utili per pagare i fornitori, aziende, non ci sono ancora gli sblocchi dei fondi extraregionali e c'è anche da trattare in assemblea quello che saranno il bilancio consolidato e così via perché c'è questo contenzioso che si sviluppa un po' con la Corte dei Conti. Quello mi consenta di dire che quello è il compito del governo regionale. Il governo assolutamente ma dal Parlamento dovrà passare tutto questo. Assolutamente sì e noi siamo lì ad aspettare quello che il governo regionale ci venga a dire perché l'ho detto poc'anzi, non possiamo noi non alzare il livello dell'attenzione in Sicilia, non possiamo dire signor sì perché il governo regionale oggi non può dire che ha un governo nazionale diverso rispetto al colore politico. Oggi più che mai c'è un governo nazionale a Roma di destra centro, c'è un governo regionale in Sicilia che pare sia di centro-destra, quindi comunque hanno un fatto comune, sono dello stesso colore politico, quindi vengano in aula e ci vengono a dire quali sono le risposte che in questi mesi loro dicono di avere risolto le problematiche ma che di fatto non c'è e lo ha detto bene lei perché noi dobbiamo capire questi viaggi della speranza fatti a Roma che però di fatto sono articoli che rimangono articoli di giornale, però nel concreto, nella concretezza ancora non abbiamo visto nulla. Tornando un attimo alla finanziaria, visto che l'abbiamo affrontato ma fino a un certo punto, bisognerà tornare a fare una serie di modifiche, non c'è il rischio che questi interventi come è successo in passato e come è successo in futuro diventino alla fine soltanto grandi treni per far salire tutti a bordo, insomma leggi omnibus nel quale c'è di tutto un po' senza che ci sia poi quello che realmente serve? Nel senso, mi perdoni, su quale... Nel momento in cui sia stata fatta la finanziaria è arrivata una proposta di legge, poi sono arrivate una valanga di emendamenti e si è dato 100 mila euro lì, 20 mila euro lì, queste sono operazioni che rischiano di ripetersi nel tempo se l'assemblea non è fisicamente governata anche dai partiti. E quello mi consenta di... le ho chiesto nuovamente la domanda proprio per dire che lì c'è un'assenza del governo regionale perché di sicuro non sono le opposizioni a poter dettare la linea politica, non le abbiamo vinte noi le elezioni. Poi è chiaro che ognuno dei deputati è libero nel proprio territorio di farsi gli emendamenti, ma lì è il governo regionale che deve avere la capacità di dire qual è l'agenda politica e su quali temi bisogna intervenire. Bene, io posso dire che sui temi importanti il Partito Democratico ha sempre detto anche in queste settimane e in questi mesi e durante la finanziaria al governo regionale che noi siamo lì pronti a trattare con il governo senza nessuna demagogia quello che sono le riforme sui grandi temi. Però è chiaro che se il governo regionale ha problemi e hanno problemi all'interno della attuale maggioranza loro con i deputati, quello non è un problema nostro, quello è un problema che loro devono chiarire a casa propria e mi pare che oggi il Presidente dell'Assemblea lo abbia anche detto in aula dicendo che forse c'è una totale assenza che si ripete da parte dei deputati della stessa maggioranza. Bene, a questo punto il tempo a nostra disposizione è praticamente terminato, noi ringraziamo Michele Catanzaro per essere stato qui con noi, con il gruppo dell'EPD. Lo inviteremo ancora per fare il punto su quello che andrà succedendo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi così come inviteremo gli altri rappresentanti dei vari partiti dell'Assemblea regionale siciliana perché il confronto secondo la nostra visione, la visione di Bloc Sicilia è il momento migliore per cercare di fare qualcosa in più o eventualmente di segnalare quello che non va. Grazie ancora a Michele Catanzaro. Grazie a voi per l'invito e sono ben lieto di riaccettare il vostro invito qualora ce ne fosse diciamo qualche altro nel prossimo futuro. Grazie a tutti a voi che ci avete seguito in questo nuovo appuntamento che rinnovo per il prossimo Talk Sicilia. Arrivederci.